Oggi pomeriggio in provincia si è tenuto un incontro volto a tentare di risolvere un problema molto importante per chi vive in Val Gandino, ovvero tentare di mettere in sicurezza la strada di accesso alla valle. Ce ne parla Giuseppe Carrara, sindaco di Leffe, come è andato oggi? L'incontro ha avuto un esito positivo, eravamo presenti noi cinque sindaci della Val Gandino insieme al vice sindaco di Casnigo che ha fatto un po' da portavoce Simone Inberti, la presenza dell'assessore Cappetti e del tecnico Stilliti abbiamo esposto un po' quelle che erano le nostre criticità in merito alla strada di accesso della Val Gandino, ovvero alcuni ingressi di attività commerciali e la questione della poca luminosità di quel tratto di strada. Fondamentalmente il tecnico e l'assessore hanno condiviso con noi alcuni passaggi, tanto che si sono resi disponibili mettere a disposizione i propri tecnici per poi fare un sopraluogo che andremo a fare di qui a breve, nel giro di un paio di settimane, proprio per valutare queste criticità. Devo dire che sapevamo che era un incontro interlocutorio perché poi fondamentalmente sarà necessario fare un sopraluogo con loro e stabilire un ordine di priorità rispetto agli interventi proposti. Comunque ci riteniamo per il momento soddisfatti, tant'è che quello che comunque è emerso dalle riflessioni fatte è sicuramente condiviso rispetto al fatto che bisognerà puntare anche a una certa educazione stradale, tant'è che poi la provincia già nelle prossime settimane ha proposto di installare un limitatore di velocità, quei pannelli per così dire che siano la velocità e che quindi normalmente hanno un influsso positivo sul rallentamento dei veicoli. Sono tutte cose che vogliono tenere alto il livello di allarme per quello che riguarda questa strada. Noi non ci stancheremo mai di promuovere quello che è anche un corretto utilizzo delle vetture, però è chiaro che noi ora siamo impegnati sul fatto di ridurre questi fattori di rischio, in primo ordine appunto la luminosità di questa strada e come dicevo gli accessi di queste attività commerciali.